E' stato arrestato dai carabinieri di Barcellona a un 42enne accusato di violenza sessuale su due minori e su un ragazzo affetto da disabilità psichica. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri è approdata stamattina la richiesta di dichiarazione dello Stato di emergenza socioambientale e sanitaria per le baracche. I sindacati l'hanno accusato di aver fatto perdere 92 posti di lavoro e il sindaco oggi risponde che salteranno altri posti se creati lecitamente. Erogazione sospesa nei villaggi di Bordonaro, Cumia Inferiore, Gescale e San Filippo Inferiore per consentire la reparazione di un guasso alla rete di alimentazione che serve ai villaggi della zona sud. Il direttore sportivo Adriano Polenta lascia l'incarico per gravi motivi familiari. Confermato in panchina il tecnico Pietro Infantina contro il Marsala non ci sarà l'infortunato Davide Sarkone.